accertare un disavanzo che va a finire nel disavanzo di bilancio comunale, quindi i soldi che non prendete ve li togliete dal proprio bilancio comunale, queste sono le leggi che fanno a Roma e io ho piacere a essere qua anche per farvi capire qual è la realtà di fatti, qual è la realtà dei comuni che siamo costretti a vivere ogni giorno, si parlava prima di evasione fiscale, ci sono delle semplici opportunità per i comuni per contrastare questo che è una distorsione della concorrenza tra le aziende, perché l'evasione fiscale è un punto fondamentale che fa partire 10 metri prima un'azienda che bara.